Fin dal 1897 la famiglia Bosco prosegue con grande passione la tradizione vitivinicola iniziata dal fondatore Giovanni. Si susseguono gli stessi nomi, Nestore e Giovanni, e si trasmette la stessa sostanza nella qualità. Una storia, quella del Bosco, che è anche una sfida, quella di rimanere fedele ad una tradizione vitivinicola ormai centenaria, recchiudendo nei propri vini tutti i colori, gli odori e i sapori della terra d'Abruzzo. Ogni vite è come un bambino, da proteggere, da educare e da amare. Questo è il motto che distruisce nella coltivazione della vite e degli ulivi. Pazienza e costanza sono le virtù di coloro che vi lavorano. Rivolte a Mezzogiorno e a Levante, i vigneti coprono una superficie complessiva di circa 60 ettari, tra i comuni di Nocciano, Civitacuana e Categnano. Da una terra ghiaiosa e calcarea, supportata esclusivamente da un'agricoltura biologica, traggono i necessari nutrimenti a produrre uve di elevata sanità, destinate a creare il capolavori Bosco Nestore. Solo le uve migliori, appositamente selezionate, sono destinate a dar vita ai vini Bosco Nestore. Presse soffici, fermentazione a temperatura controllata, macerazione delle bucce a cappello sommerso, travasi a caduta e molti altri accorgimenti tecnici rendono speciali tutti i prodotti, ma è la passione che dona ad ogni creazione la sua aria di eccezionalità. Il passaggio di molte stagioni vede i vini Bosco Nestore affinarsi in un lungo riposo estatico. Oltre 200.000 bottiglie giacciono in apposite celle in un chiostro sotterraneo, in perfetto silenzio e in assenza di luce, a temperature e umidità costanti. Ogni singola bottiglia viene costantemente controllata per garantire ai palati solo vini di altissima qualità. Linea tradizionale Bosco, linea Eclipse, Pan, Don Bosco, Linfa, Il Grappolo, Fior di Bosco, Pecorino, Spumante, 110, Olio extravergine di oliva biologico e Grappa prodotta da Vinaccia di Montepulciano d'Abruzzo. Cantine Bosco Nestore, passione senza tempo.